ma dai buongiornissimi ciao avete visto che è arrivato ebbene si porca paletta ma sei tu o sei tu sono io sono io che ci ha portato ci ha portato i guanti questi qua per accogliere le castagne e poi ci ha portato il gran più ci ha fatto quanto sono chic e sono belli è molto pezzi unici pezzi unici c'è l'olio d'olivo il mio da rifare i papaveri io ho questo molto da marisa vero da nonna tirolese molto in una marisa dove dentro metteremo le castagne per velocizzarci e oggi inizierete a raccogliere per la prima volta in vita vostra le castagne c'è un provato domenica mangia tutte le cose dentro le dita quindi non avevo i guanti ma non hai però come ne hai però con l'ora lo so poi te lo dico a te non ci riprendiamo più tra le altre cose siamo ieri sera è stato un evento molto bello scusate sto volendo fare il surfista e romina parlando seriamente un attimo chiedo scusa si è un evento romina si è sbloccata sul palco davanti a quasi un centinaio di persone fatto come una bella figura si allora rispetto magari a chi ha parlato prima di noi siamo stati noi siamo fatti così che ci emozioniamo parlando della nostra provincia nostra terra ci emozioniamo a raccontare della semplicità di quanto sia importante seguire i propri sogni e quindi forse potenzialmente fatto la figura dei goffi ma non siamo portati a stringere solamente mani ma esternale di continuo i nostri sentimenti e nostre emozioni come le nostre famiglie ci hanno insegnato ci sarà più di una blocca si e quindi chi ha visto una stories romina palesemente molto emozionata ma essenziale è andata è andata per cui magari se venirete nei prossimi eventi che parteciperemo e vi fate una risata va bene uguale noi siamo fatti così siamo puri o meglio proviamo a essere autentici e non c'è le castagne che chiamano tra altre cose bellissimo questo interno di cosa con noi posiamo le castagne sulle facce dei politici è vero sulle facce dei politici cunesi noi posiamo le castagne abbiamo scelto un pezzo di carta da mettere ed era quello faccio e bernie bernie mia mamma mi ha dato quello che era piena di uva che sapeva di uva si era uva vera era autentica e per cui noi adesso con questi guanti tra le altre cose inizio su così perché sargio la stai qua vicino a me poi scappa si parte nei boschi e non arriva più la casa del giorno che si perde poi è tutto relativo papà quando devi cantare la casa del giorno è di bacini francesco margherita baldacci perché da quando sono su di casa su questo in testa margherita baldacci crolla il mondo intorno a te bisonte insaponato sui binari di un metro cioè immagina uno che riesca a scrivere una canzone con un bisonte insaponato sui binari di un metro fantasia portami via portami via tata anche notare sono vestiti molto simili con lo stesso giubbino e lo stesso lavoro i buoni sempre nativi mast� però lato Machi vadooo guardate e l'intro peggiore che abbiamoematica vado uomo ok comunque noi adesso iniziamo zastrano per che bisogna raccogliere il castello perché domani si vendono si è mosso qualcosa si è mosso il tre petri perché è instabile andiamo ragazzi da Teto Gaban e tutto Takuma in punta no tutto questo che abbiamo pulito è buono tutte le castagne che c'è tutta qua sono nostre non ce n'è una ma ho già passato giù un giro lui qua però vai fidati che ci sono vabbè ce lo dici tu io ho fatto anche tutto qui comunque siete belli da vedere ma per accogliere le castagne basta passare dietro Sly le trovi sì sì mamma arrivo io Sly non ti capiscono lì davanti quello che abbiamo andato nel tre giorni la papi guarda sotto il fronte iniziale alzate un po' di foglie sempre sì sì sempre ma là ci vorrà un bastone no con le mani tanti guanti belli un bisonte innamorato ma chi ne avrà ok vado a svuotarmi ma è iniziale chi vuoi svuotarlo già adesso eh certo ma va va anche io svuoto va svuotare subito qua è andata no cosa è più facile no no con lì non aprirla perché guarda apriamo una stessa guarda che belle che sono col piede ma perché dici di non aprirla no no ma non tutte ma ci metti il piede sopra schiacci eh ma magari la schiacci no no non so che dici di non aprirla io le aprivo tutte no tutte tutte no devo prendere un bastone più lungo la setta casa rompa il raffrello vado a prenderla no 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 domenica domenica non ne vedevamo una ogni dieci passo voi le avete ancora fatte nella friggitrice? le? le avete ancora fatte nella friggitrice? sì un giorno sono sempre venute buone secondo noi erano venute più buone le tue 20 minuti ho tagliato in due in quattro ah in quattro me l'ho fatto in due no a stella croce ah vedi allora stella scusa croce sì ma come le tagliate? a croce però erano più buone le tue secondo me sì anche secondo me poi magari dipende anche dalle castagne scudassi per carità però era un po' buone ecco noi riproviamo sì oh Maria è arrivato il cinghiale parte alta del bosco non pervenuta no ma perché scivola giù? no ma le foglie le avevamo fatte fuori dallo piccolo tappo lì tutto il ritardo ma poi è un po' in alto ci sono eh da sotto non le vedi eh da sotto no non no 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 porterei solo due o tre modifiche ciao Epi si raccoglie un po di castagne cioè che modifiche lo pizzicherei agli angoli lo farei dritto come diceva Piero anche Piero perché è difficile è difficile da svuotare ma sai perché? perché il secolo è doppio adesso io lo tolgo per svuotarlo togli cosa? anche qui non lo si è fatto fuori numero uno piano è lì perché è veramente tanto pendente ma guarda che lei sopra non mi ha dato lo stambecco italiano guarda lo stambecco italiano guardala guarda che roba Sly ti piace raccogliere o no? sì ce ne fossero tante Epi allora cambiamo bosco perché 7-8 kg le abbiamo fatti dal solito 4 castagne in croce gli altri non stanno buttando per niente guardate che che charm che aromina ormai vieni mammi ora torniamo vi portiamo di nuovo dal nostro ciabot e poi Epi show come sempre ora guardate quanto corre e poi andiamo dal nostro castagne in attesa che arrivino gli ospiti porca paletta Sly ciao babbo ciao e chi c'è qua? il posizion è già tanto mi vuoi attaccare? ora entriamo Epi dai andiamo veni Epi Grazie.